Progettare il sito web di un comune è un webinar che è stato organizzato da Agid, Formez e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Questo è il primo evento di un corso pilota che come avete letto dalla pagina di Eventi PA da cui vi siete iscritti si compone di tre webinar. È un corso pilota perché avremo bisogno anche del vostro aiuto per perfezionarne i contenuti e le modalità e ripeterlo per altri partecipanti. Avete visto che questa volta abbiamo un'utenza definita, sono gli RTD responsabili della transizione digitale e il personale dei loro uffici. Abbiamo ritenuto opportuno, essendo un webinar, un ciclo di formazione destinato prevalentemente ai comuni, agli enti locali, alle associazioni di comuni, selezionare le iscrizioni proprio in base al target che avevamo previsto, ma vi diciamo già da subito che è un'edizione che verrà replicata più avanti. Quindi, verrà replicata e riprogettata, migliorata anche grazie al vostro contributo. Questo webinar è un'attività nell'ambito del progetto Informazione e formazione per la transizione digitale della PA che Formez PA svolge con Agit. Agit è un po' un governance e questa è una delle prime attività che voi troverete che riafferisce a questo progetto e che verrà portato avanti sostanzialmente su tre linee che riguarderanno un'utenza abbastanza ampia di lavoratori della pubblica amministrazione e in particolare appunto di personale impegnato proprio nella transizione digitale. Allora, abbiamo avuto 150 iscrizioni, questo era il limite che avevamo messo, vi abbiamo selezionato in 100 e appunto vi ricordiamo che una volta iscritti siete iscritti a tutti e tre gli eventi. Vi consigliamo di partecipare a tutti e tre gli eventi per una completezza di contenuti proprio per raggiungere l'obiettivo di essere in grado di progettare il sito web di un comune. In ogni caso, vi ricordo che l'attestato di frequenza verrà rilasciato da Agit e bisognerà partecipare almeno a due webinar su tre per ottenerlo. Allora, l'articolazione del corso è quella che avete trovato sulla pagina di Eventi.PA. Come vi dicevo prima, si compone di tre webinar. Il primo, quello di oggi, riguarda progettare il sito web di un comune e in particolare verrà svolto questo tema da due dei cinque relatori che avete trovato sulla pagina di Eventi.PA, da Claudio Celeghin e da Maria Cristina Caratozzolo che vi presenterò successivamente. Si alterneranno anche gli altri docenti. La pagina di Eventi.PA per voi rimane il riferimento fisso perché lì troverete sia i programmi dettagliati di ognuno dei webinar troverete dei webinar già realizzati, le slide dei docenti e troverete anche la registrazione del webinar già realizzato. Noi utilizzeremo quella pagina per tutti i tipi di materiale che verranno di volta in volta utilizzati nel corso dei webinar. Il programma di oggi, passiamo al programma di oggi vi ricordo che il coordinamento tecnico-scientifico di questo ciclo di webinar è a cura del Dipartimento per la Trasformazione Digitale in particolare da parte di Michela Gabrielli che si occupa appunto di comunicazione all'interno del Dipartimento. I relatori di oggi sono Claudio Celeghin che inizierà e che appunto vi parlerà della comunicazione online delle linee guida delle nuove linee guida di design per i servizi web della PIA e poi di Maria Cristina Caratozzolo che vi spiegherà la metodologia di progettazione dei siti web. È prevista una piccola pausa passerei la parola a Claudio Celeghin per non rubarvi ulteriormente tempo mi pare che con l'audio avete detto tutti che si sente bene che è a posto io passo la parola a Claudio vediamo appunto se fa una prova a lui vi ricordo soltanto una cosa potete fare le domande all'interno della chat noi le riporteremo ai docenti che vi risponderanno alla fine della loro comunicazione vi ricordo che appunto le domande possono essere poste quando volete cercheremo di rispondere a tutte le domande nel corso del webinar nel caso questo non fosse possibile vi riporteremo un file pdf sempre all'interno della pagina di Eventi.pa con le risposte degli esperti allora Claudio sei pronto? ti si sente? pronto? sono qui eccomi qui mi sentite? ok si sente perfetto allora buongiorno buongiorno a tutti buon pomeriggio sono Claudio Celeghin responsabile del servizio sviluppo web communities dell'agenzia per l'Italia digitale in questa presentazione vi presento brevemente le linee guida dei siti web dei servizi web per la pubblica amministrazione che queste linee guida sono uscite lo scorso 12 maggio vi presenterò brevissimamente i contenuti e soprattutto cercherò di un po' di disambiguare di fare un po' di chiarezza circa la relazione che esiste fra queste linee guida e le altre linee guida che sono state emanate negli anni scorsi allora dicevamo le linee guida per queste linee guida che sono state pubblicate lo scorso 12 maggio sono state messe in consultazione e rimarranno in consultazione sino al 14 giugno sono disponibili su Docs Italia e chiunque può procedere per fare dei commenti ai testi sono previste e questo lo ripeterò spesso in questa brevissima presentazione sono previste dal codice dell'amministrazione digitale e sono state curate dal dipartimento da Agid e dal dipartimento per la trasformazione digitale queste sono linee guida che a differenza di quelle che sono state emanate precedentemente erano richieste dal codice dell'amministrazione digitale in particolare dall'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale questo vuol dire che seguono un percorso di validazione del tutto peculiare che stanno seguendo che hanno seguito sino adesso tutte le linee guida pubblicate ai sensi dell'articolo 71 del CAD quindi ora vengono messe in consultazione poi verranno inviate al garante per la privacy verranno inviate alla conferenza Stato-Regioni verranno inviate alla Commissione Europea per ricevere da parte loro eventuali commenti, integrazioni che poi verranno valutate ed eventualmente integrate quindi questo è un percorso abbastanza diverso rispetto alle altre linee guida che sono state pubblicate sino adesso e hanno anche una diversa forma di cogenza questa è la cosa importante quindi volendo fare un brevissimo excursus di quelle che sono state le linee guida sui siti web possiamo partire dalle linee guida che sono state pubblicate nel 2011 a cura del ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione dove si dava giustamente particolare rilievo anche agli aspetti di un po' di razionalizzazione dei siti web ma si affrontavano tematiche anche relative all'accessibilità al trattamento dei dati alla qualità del web in generale e successivamente si è Agide ha diciamo prodotto e cominciato a a realizzare una serie di indicazioni su di una serie di linee guida anche su indicazioni del del governo che fossero che fossero relative alla progettazione e anche all'estetica dei siti web alla modalità di presentazione dei siti web e quindi c'è stata nel 2015 questa prima versione ripeto voluta dalla dalla loro governo per realizzare appunto un sistema che desse informazioni appunto proprio sulla progettazione e sulla modalità di presentazione dei contenuti anche dal punto di vista estetico e forse ricorderete che già nel 2016 il sito del governo il sito di funzione pubblica il sito di dei principali ministeri avevano prontamente adottato questo nuovo vorrei dire questo nuovo template di grafico insomma ecco e dopodiché c'è stata l'aggiornamento c'è stato l'aggiornamento importante del codice dell'amministrazione digitale che prevedeva la realizzazione di linee guida contenenti regole tecniche che dovevano fornire appunto indicazioni cogenti alle amministrazioni a cui attenersi per poter produrre dei servizi per la pubblica amministrazione e sapete che insomma di linee guida ne sono già uscite tante su su questi sugli open data sull'accessibilità ne sono tuttora in consultazione altre insomma sono sempre secondo quello che è l'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale quindi era previsto che queste linee guida venissero pubblicate che venissero pubblicate delle linee guida per i siti web anche dal codice dell'amministrazione digitale nel frattempo sono nello stesso praticamente nello stesso anno sono è nato il sito designers italia a cura della loro team digitale con la collaborazione di Agid e queste dove compare il termine linee guida anche se questo termine appunto non è da relazionarsi ancora con quello che era appena stato pubblicato con il decreto con il con il codice con l'aggiornamento del codice dell'amministrazione digitale e qui sopra e qui nel in questo sito sono state date notevoli fornite all'amministrazione ai progettisti ai fornitori un numero importante un livello di approfondimento notevole sulla progettazione sulla realizzazione e monitoraggio dei servizi digitali della pubblica amministrazione così come si dice user centered insomma cioè centrati sull'utente sulle reali esigenze dell'utente ora queste nuove linee guida di design dei servizi web sono realizzate ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale ma non sono qualche cosa di totalmente diverso anzi dovendo dovendo come ci come ci come ci chiedeva il codice come ci chiedeva il codice dell'amministrazione digitale dovendo realizzare delle nuove linee guida che avessero un valore di maggiore cogenza abbiamo indicato su queste linee guida che sono estremamente sintetiche perché parliamo di tolti le premesse eccetera parliamo di sette otto pagine abbiamo indicato le 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 attività di base che devono essere fatte che devono essere realizzate da 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 un committente da un'amministrazione da un fornitore per realizzare un sito web e rimandiamo come possibile strumento di riferimento alla designers per capire e per verificare nel nel dettaglio come fare sostanzialmente quindi nelle linee guida come dette come dire nelle linee guida CAD che sono appena uscite spieghiamo che cosa deve essere fatto nelle linee guida su designers Italia viene indicato come possibile supporto tecnico progettuale operativo che appunto spiega come fare quanto indicato nelle linee guida ora pubblicate quindi ripeto presentano quindi un elenco di regole tecniche e presenta designers Italia come possibile strumento di riferimento per realizzare quanto indicato sulle linee guida CAD questo lo ripeto perché è utile perché insomma se no si crea una un'ambiguità ora chiaramente poi anche nel momento in cui andremo a le linee guida diciamo dopo il processo di consultazione anche il anche il termine linee guida dovrà essere appunto usato diversamente soltanto ai sensi di quanto indicato dal codice dell'amministrazione digitale cosa indica il codice dell'amministrazione digitale sostanzialmente che in tre articoli specifica che i servizi devono essere all'articolo 7 i servizi devono essere semplici e integrati descrive nell'articolo 53 come devono essere realizzati i siti web delle amministrazioni e quale deve essere il contenuto minimo dei siti delle pubbliche amministrazioni in particolare quello più rilevante che ha poi forgiato fondato il nostro le nostre linee guida sono l'articolo 53 dove si parla di siti che devono avere devono essere accessibili molto usabili facilmente trovabili dove l'informazione è completa ma non è eccessiva deve esserci un linguaggio chiaro il sito deve avere un grado elevato di affidabilità deve essere facile utilizzarlo e insomma una qualità generale è un'omogeneità interoperabilità adeguata insomma queste linee guida ovviamente sono destinate alle pubbliche amministrazioni ai gestori di servizi pubblici e sono rilevanti anche ai fini della misurazione della valutazione delle performance il andiamo a vedere rapidamente quello che è il contenuto della delle linee guida finalmente vorrei dire che si scrive su anche su un atto che ha una valenza normativa che è importante comprendere i bisogni dell'utente ora considerazioni di fondo è chiaro che non basta scriverlo sulla normativa siamo tutti d'accordo però è un passo avanti verso una anche anche una maggiore sensibilizzazione e una maggiore attenzione degli stakeholders verso verso queste tematiche quindi comprendere i bisogni dell'utente perché il sito il servizio deve costantemente essere migliorato quindi occorre realizzare dei prototipi verificarne l'usabilità fare delle ricerche sugli utenti fare dei test di usabilità quante volte abbiamo detto che è appunto importante fare dei test abbiamo all'interno di designers italia ci sono dei riferimenti precisi su come fare questi test di usabilità abbiamo a suo tempo anche inglobato quello che è il protocollo EGLU organizzato e coordinato da funzione pubblica è un ottimo strumento diciamo per poter fare dei test di usabilità a basso costo e qui si dice finalmente insomma che i test di usabilità devono essere fatti devono essere fatti per evitare di produrre dei servizi sostanzialmente inutili o perlomeno poco usabili quindi si è necessario ecco un'altra cosa che volevo dirvi all'interno di queste linee guida abbiamo indicato delle azioni che devono essere svolte da parte degli utenti da parte della insomma delle amministrazioni e delle azioni invece che si raccomanda di realizzare è necessario quindi utilizzare un linguaggio che sia compreso dall'utente che fruisce di quel servizio di quella e di quella e di quel di quel sito e deve essere anche facilmente il sito deve essere facilmente il sito il servizio deve essere facilmente trovabile ad esempio in questo articolo abbiamo indicato come strumento di supporto come strumento a supporto per realizzare queste azioni designers italia quindi potete trovare all'interno di designers degli strumenti che vi possono aiutare a realizzare quanto indicato dalle azioni un altro elemento è la necessità di monitorare costantemente i servizi di monitorare di rilevare diciamo di rilevare la modalità con cui gli utenti fruiscono appunto dei siti web dei servizi in generale e tanto è vero che Agida ha messo a disposizione questa è una cosa così importante che Agida ha messo a disposizione già da alcuni mesi la piattaforma nazionale Web Analytics Italia all'interno che insomma è disponibile per tutte le pubbliche amministrazioni e possono che possono che sono presenti in IPA nell'indice dell'APA possono aderire a Web Analytics Italia e avere degli strumenti di monitoraggio statistico del proprio sito ed è già disponibile anche un widget che consentirà alle amministrazioni di poter inglobare all'interno di una determinata pagina del loro sito le statistiche aggiornate praticamente quasi in tempo reale quindi questo è un altro appunto elemento importante perché ci consente di sapere come adesso non voglio entrare nel questione di carattere tecnico però insomma chiaramente sapere chi utilizza e come utilizza un sito o un servizio in generale mi può certamente aiutare a migliorarne la 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 presentazione e il processo di erogazione di questo servizio un altro un altro elemento è l'obbligatorietà di alcuni contenuti l'obbligatorietà di alcuni contenuti che sono ad esempio tra gli altri io qui ho messo alcuni dei contenuti obbligatori poi ci sono norme specifiche che riportiamo nelle linee guida ma che adesso qui per la brevità della presentazione non ho indicato ad esempio la dichiarazione di accessibilità il monitoraggio statistico appunto attivato sul singolo sito la data dell'ultimo aggiornamento della pagina quante volte ci siamo trovati di fronte a dei siti web o a delle pagine di cui non sappiamo non capiamo se quel contenuto è è aggiornato o meno e invece è molto importante indicarlo in ciascuna pagina d'altra parte questo è anche richiesto dalle dai regolamenti europei da alcuni regolamenti europei ad esempio il single digital gateway che per determinate pagine richiede proprio che sia presente il come si dice la data di ultimo aggiornamento allora infine ecco dobbiamo mettere a disposizione interfacce semplici da utilizzare su ogni tipo di dispositivo quindi l'importanza della progettazione mobile first e e poi quindi come dire utilizzare interfacce coerenti e consistenti ottimizzate per i diversi dispositivi questo è molto molto importante e richiamiamo ulteriormente un'altra volta come strumento di supporto ciò che viene messo a disposizione su designers italia ed è anche quello che verrà presentato nella successiva presentazione dalla dottoressa caratozzolo a cui cedo la parola e io intanto vi ringrazio per l'attenzione e buon lavoro eccoci buongiorno a tutti io mi chiamo Maria Cristina caratozzolo sono una user experience designer presso il dipartimento per la trasformazione digitale come è stato detto oggi introdurrò ad alcuni strumenti pratici di supporto all'attività di progettazione di strumenti web per la PA con un particolare focus sul modello per i siti web dei comuni poiché dal questionario che vi è stato inviato nei giorni scorsi è risultato che una parte dei partecipanti di oggi non conosce il progetto Designers Italia farò una breve introduzione su appunto che cos'è e in cosa consiste appunto Designers Italia poco fa vi Claudio Celleghin vi ha introdotto le linee le nuove linee guida per la progettazione di servizi web per la PA che stabiliscono alcuni requisiti fondamentali che tutti gli strumenti e servizi digitali appunto della pubblica amministrazione devono osservare queste linee guida insieme quindi al codice dell'amministrazione digitale e poi alle declinazioni del piano triennale per l'informatica che stabilisce anche degli obiettivi in termini temporali possiamo dire che definiscono un po' il cosa la pubblica amministrazione deve fare in relazione alla produzione e realizzazione di servizi digitali servizi web l'altro aspetto diciamo di questi requisiti è poi la pratica quindi il come questi requisiti possono essere messi in pratica questo appunto sempre nel rispetto degli obiettivi stabiliti come il rispetto come diceva poco fa Claudio Cellechin di principi come la centralità dell'utente l'attenzione al mobile quindi all'utilizzo di tutti gli strumenti alla produzione dei servizi partendo da dispositivi mobile il rispetto di principi come l'accessibilità l'inclusività o la erogazione di servizi e piattaforme web che siano open cioè aperte e accessibili utilizzabili da tutti dicevo il rispetto di questi principi deve essere garantito attraverso l'applicazione di metodologie pratiche di progettazione che appunto tengano presenti questi principi in tutte le fasi da quella ideativa fino a quella realizzativa designers italia è un progetto che ha l'obiettivo ultimo di fornire alle pubbliche amministrazioni degli strumenti pratici come dicevo poco fa per supportarle nella progettazione e realizzazione appunto di servizi digitali si ripropone cioè appunto di progettare con e per la pubblica amministrazione tenendo il cittadino al centro del processo di progettazione coinvolgendolo quindi nel processo stesso della progettazione vedremo tra poco in che modo attraverso quali strumenti ma anche appunto fornire alle singole pubbliche amministrazioni degli strumenti per poter realizzare servizi digitali che rispondano ai requisiti stabiliti appunto dalle linee guida e dagli altri strumenti normativi per fare questo sarà necessario partire dalle esigenze e anche da una parte dai limiti interni alla pubblica amministrazione ma anche così parallelamente come si vogliono coinvolgere da una parte i cittadini è anche opportuno e necessario coinvolgere gli operatori funzionari della pubblica amministrazione nel processo di progettazione che cos'è quindi nella pratica designers italia è un ecosistema diciamo così di servizi è insieme un progetto ma è anche concretamente una piattaforma e una community è un progetto come dicevo che mira alla trasformazione culturale della pubblica amministrazione nel senso di una maggiore diffusione e conoscenza del digitale e nell'ottica appunto sempre del coinvolgimento dei cittadini nel processo stesso della progettazione di servizi digitali è come dicevo anche una piattaforma una piattaforma web che offre alle pubbliche amministrazioni e non solo degli strumenti pratici delle guide e dei kit che tra poco vedremo che permettono appunto di supportare le pubbliche amministrazioni nel processo di progettazione e realizzazione di servizi digitali infine come accennavo è anche Designers Italia è anche una community una community che si realizza su più canali su Forum Italia per esempio sono stati da poco raggiunti i 10.000 iscritti è una community diretta a progettisti e professionisti interni o esterni alla pubblica amministrazione ma non solo a qualunque soggetto sia interessato appunto al discorso in generale della progettazione di servizi digitali sulla community sulle community di Designers Italia e Developers Italia è possibile infatti diciamo trovare risposte alle proprie domande su particolari aspetti della progettazione o anche è possibile condividere con gli altri la propria esperienza di progettazione di un servizio digitale a fronte di questi canali come dicevo Forum Italia Slack e GitHub che è una piattaforma dedicata più che altro agli aspetti di sviluppo quindi ai developers delle applicazioni digitali sulla piattaforma di Designers Italia Designers.italia.it vengono offerti una serie di strumenti pratici che definiscono tornando a quanto dicevo poco fa il come le pubbliche amministrazioni possono progettare servizi e strumenti digitali rispondendo ai requisiti stabiliti dalle linee guida e dal CAD gli strumenti principali offerti da Designers Italia li vedremo tra poco brevemente e sono dei kit pratici appunto per svolgere attività particolari puntuali di progettazione e una serie di indicazioni metodologiche e pratiche che di fatto declinano le linee guida poco fa Claudio Celeghin spiegava come le attuali linee guida per la progettazione di servizi web della PA siano nuove e stabiliscano degli obblighi di fatto normativi per le pubbliche amministrazioni quelle che precedentemente prendevano il nome di linee guida sono di fatto una guida pratica uno strumento di supporto metodologico alla realizzazione e progettazione dei servizi pubblici digitali qui li chiameremo appunto guida pratica per la progettazione di servizi pubblici digitali proprio per distinguerli nettamente dalle attuali nuove linee guida e per sottolineare come si tratti di uno strumento di supporto pratico operativo alla realizzazione e alla rispondenza ai requisiti stabiliti dalle linee guida questa guida pratica si struttura in quattro principali potremmo dire capitoli quattro principali sezioni che individuano altrettanti settori del design o della progettazione digitale il primo di questi riguarda la ricerca sugli utenti chiamata anche user research la ricerca sugli utenti ha l'obiettivo di raccogliere interrogando gli utenti finali di un servizio pubblico digitale quindi i cittadini principalmente di raccogliere i loro bisogni le loro necessità reali e quindi di poterle definire come dei requisiti per il servizio futuro da progettare che stiamo cercando di progettare la user research la ricerca con gli utenti prevede una serie di metodiche sulle quali poi tra un attimo vedremo designers italia la piattaforma designers italia offre alcuni strumenti di supporto per realizzarle si tratta per lo più di ricerche qualitative ma anche di strumenti di tipo quantitativo che appunto permettono di trasformare le narrazioni i racconti le preferenze le criticità degli utenti in requisiti per un servizio digitale un'altra grande sezione della guida pratica alla progettazione dei servizi digitali è quella che riguarda la progettazione dei servizi in sostanza la progettazione dei servizi prevede un'azione di revisione progettazione dei processi che stanno alla base dei servizi pubblici in questo caso in un'ottica di maggiore rispondenza alle reali esigenze appunto dei cittadini una revisione dei processi che tenga conto dei diversi canali attraverso i quali il cittadino può accedere ad un servizio pubblico tra questi naturalmente ci sono i canali digitali per l'appunto che devono essere progettati tenendo conto di principi come l'accessibilità e diciamo la universalità di accesso diciamo quindi l'estendere il più possibile la possibilità ai cittadini di accedere ai servizi pubblici un altro aspetto molto importante della progettazione di servizi digitali riguarda la progettazione dei contenuti i contenuti chiaramente devono essere veicolati in modo tale che siano innanzitutto comprensibili in termini di linguaggio per il cittadino quindi usino un linguaggio che sia intellegibile per il cittadino e che siano organizzati in modo tale che il cittadino li possa trovare che possa fruirne in modo e nell'ordine nel quale ha bisogno di di vederli di acquisirli quindi appunto anche questi devono essere progettati in modo tale che rispettino le esigenze reali del cittadino e che quindi mettano il cittadino e non l'amministrazione al centro infine l'ultimo l'ultima sezione di questa guida pratica riguarda la progettazione delle interfacce dell'interfaccia utente l'interfaccia è l'aspetto di un servizio in questo caso di un servizio digitale con il quale il cittadino viene concretamente in contatto quindi è diciamo così la l'ultima parte frontale che con la quale il cittadino si trova ad interagire che quindi in quel momento rappresenta la pubblica amministrazione presso il cittadino stesso tutti questi ambiti della progettazione digitale naturalmente hanno e prevedono una serie di metodiche di attività pratiche che devono e possono essere svolte all'interno di un progetto digitale designers italia nella piattaforma online offre una serie di kit ovvero di strumenti operativi pratici che possono essere liberamente utilizzati da chiunque e che offrono appunto già delle guide per svolgere le attività legate a questi quattro ambiti definiti dalla metodologia di progettazione e quindi dalla guida pratica sulla piattaforma designers italia il processo di progettazione tenendo conto quindi anche dei quattro ambiti che vedevamo poco fa della progettazione digitale è stata è stato suddiviso in tre fasi per progettare un servizio uno strumento digitale in altre parole bisogna innanzitutto capire capire che cosa c'è da fare per dirlo semplicemente capire quali sono le esigenze da soddisfare i bisogni ai quali rispondere quindi per fare questo per ottenere questo risultato ci sono una serie di attività possibili da mettere in atto poco fa appunto parlavamo di ricerca con gli utenti bisogna coinvolgere i cittadini interrogarli cercare di capire quali sono appunto i loro bisogni ai quali il servizio digitale che stiamo per progettare dovrà rispondere la seconda fase consiste proprio in questo in progettare ideare delle possibili soluzioni ai bisogni che abbiamo messo in evidenza quindi strutturare delle possibili risposte in termini di organizzazione dei contenuti e flussi di attività e processi che stanno sotto al servizio da erogare l'ultima fase è quella del fare quella che ci permette di realizzare nella pratica il nostro servizio digitale il nostro servizio web realizzando quindi fino all'ultimo realizzandolo quindi fino all'ultimo step quello dell'interfaccia utente e dello sviluppo e della messa online del servizio stesso dalle risposte ai questionari che citavo prima che vi sono stati distribuiti nei giorni scorsi è emerso come c'è un interesse particolare su alcuni strumenti degli strumenti di supporto all'attività di progettazione che corrispondono nel caso di Designers Italia ad altrettanti kit quindi cercheremo brevemente di vederne alcuni il primo di questi è lo strumento delle interviste delle interviste con utenti le interviste appunto sono dei veri e propri incontri con gli utenti di un servizio digitale gli utenti potenziali chiaramente quindi parliamo principalmente di cittadini nelle loro diverse tipologie e la metodica delle interviste è stata mutuata e trasformata naturalmente ma mutuata dalla ricerca sociale della ricerca etnografica e consente attraverso una strutturazione chiaramente puntuale delle interviste di tirare fuori da un dialogo diretto con gli utenti finali le loro prospettive i loro bisogni e tradurli poi in spunti per la progettazione il kit interviste di Designers Italia contiene innanzitutto una serie di istruzioni per la selezione degli soggetti da intervistare per la pianificazione delle interviste anche per la strutturazione delle domande di un'intervista contiene anche appunto un template un modello standard di intervista che illustra come quali sono le sezioni principali di un colloquio con un potenziale utente di un servizio digitale le interviste sono molto utili come strumento qualitativo perché permettono attraverso una narrazione da parte dei soggetti intervistati di evidenziare le loro esperienze passate quindi le criticità per esempio che hanno vissuto nella interazione con un servizio digitale e tenerle presenti quindi nella fase di progettazione come requisiti come spunti per trovare soluzioni quella che vedete è una schermata di esempio di evidenze tratte da interviste con utenti in particolare questa slide è stata tratta da un report di un'attività svolta nell'ambito della progettazione del modello per i siti web dei comuni che vedremo tra poco e nell'ambito del progetto di un progetto di regione Veneto il progetto MyPortal sono stati quindi intervistati una serie di cittadini su diverse questioni che riguardano appunto i servizi pubblici digitali e sono state estrapolate alcune delle loro frasi alcune delle cose che hanno detto perché particolarmente significative sempre dal punto di vista qualitativo questo è un altro esempio tratto sempre dalla ricerca effettuata per la realizzazione del modello dei siti web dei comuni che evidenzia come vedete proprio nello specifico delle necessità dei cittadini nei confronti del sito di un comune in particolare si faceva riferimento al sito del comune di Firenze e come vedete in queste tre frasi vengono evidenziati i motivi per cui le persone intervistate andavano a consultare il sito web del loro comune attraverso questa attività come vedremo più avanti è stato possibile individuare quali sono i motivi ricorrenti per cui le persone si collegano al sito web di un comune che sono schematizzate qui quindi a questi otto motivi per cui i cittadini si collegano al sito web del loro comune corrispondono altrettanti obiettivi quindi requisiti che il sito web di un comune deve avere deve permettere cioè a chi si collega di conoscere e sapere di più dell'amministrazione di come è strutturata devono poter permettere di essere aggiornati su quanto avviene nel loro comune ma anche di poter inviare o presentare domande per ricevere alcuni servizi da parte appunto del comune stesso un'altra attività che permette di coinvolgere gli utenti finali e di ascoltare diciamo così le loro esigenze è quella di test di usabilità anche questo è risultato essere dalle vostre risposte di particolare interesse il test di usabilità consiste nel osservare un utente un utente tipo quindi rappresentativo degli utenti ai quali un determinato servizio è diretto utilizzare quel servizio per diciamo raggiungere un determinato obiettivo si chiede cioè al soggetto di svolgere una determinata azione per esempio nella foto che state vedendo che riguardava l'app io si richiedeva a un utente di pagare una determinata retta diciamo inviata da un comune attraverso l'utilizzo del QR code presente sulla notifica di pagamento utilizzando l'app osservando le persone svolgere questi compiti e chiaramente chiedendogli di fare le loro osservazioni ad alta voce si possono mettere in evidenza una serie di eventuali problemi che il sistema il servizio digitale ha o criticità che il cittadino può incontrare nel fruire servizio naturalmente obiettivo dei test di usabilità è quello di mettere in evidenza difficoltà e problemi e criticità dell'applicazione del servizio digitale e non naturalmente valutare la performance del soggetto che si sta sottoponendo al test questo è un esempio una schermata di esempio presa sempre dall'attività di ricerca svolta per il modello comuni in cui di risultato di test di usabilità in cui è stata messa in evidenza una determinata criticità del sito di una piattaforma digitale un altro strumento che in questo caso fa riferimento alla fase dell'ideazione quindi alla fase nella quale si inizia a progettare un servizio digitale e che è risultato essere di particolare interesse è quello delle personas il termine personas che deriva dalla parola latina persona che è un termine usato nell'ambito della progettazione digitale serve a indicare degli utenti tipo delle tipologie di utenti che in sostanza raccolgono dei requisiti ricorrenti di gruppi di utenti chiaramente l'individuare delle personas facilita il processo di progettazione poiché soprattutto quando si progetta per un pubblico così vasto come quello generico dei cittadini chiaramente i cittadini sono di tante tipologie hanno tante caratteristiche ed esigenze e criticità diverse e quindi il tipizzarle in alcune categorie diciamo così rappresentative ricorrenti aiuta poi nel processo di progettazione a tenere presenti i bisogni di tutti e creare quindi servizi digitali che possano rispondere il più possibile ai requisiti e alle esigenze di tutti le personas possono essere costruite sintetizzando i dati raccolti nella fase precedente quella del capire quella della ricerca con gli utenti e il kit personas prevede proprio un modello come quello che state vedendo per la costruzione e l'elaborazione di personas come vedete le personas sono delle persone vere e proprie che hanno un nome un ruolo un livello di competenza digitale o delle preferenze diciamo così e hanno dei bisogni particolari chiaramente devono essere raccontate in relazione al servizio che si sta progettando nel caso specifico state vedendo una delle personas create per il caso dei siti web dei comuni quindi state vedendo un personaggio Giovanni una persona che ha come particolare obiettivo quello di conoscere meglio il proprio quartiere e le attività che si svolgono nel proprio quartiere al fine di migliorare la qualità della vita del proprio quartiere in particolare relativamente alle aree verdi per poter far giocare i propri figli ciascuna delle personas di riferimento potrà essere inserita all'interno di quello che viene chiamato journey o meglio il viaggio il percorso di fruizione di un servizio digitale ovvero sarà molto utile attraverso questo schema presente sempre nei kit schematizzare appunto le singole azioni le singole attività che questo personaggio che questo utente svolge nel interagire o nell'usufruire di un servizio pubblico evidenziando per ciascuno di questi azioni quali sono le sue necessità specifiche e le potenziali criticità l'evidenziazione di queste criticità così puntuali sarà utilissima nel momento in cui si dovrà realizzare costruire lo strumento digitale in particolare poi l'interfaccia utente poiché progettare tenendo presenti queste criticità aiuterà a individuare le possibili soluzioni l'ultimo step del processo di progettazione che qui stiamo vedendo in maniera chiaramente molto rapida riguarda come dicevo la progettazione dell'interfaccia utente quindi dell'ultimo tratto diciamo così ma non per questo meno importante di un servizio digitale per questo lo UI kit UI dove UI sta per user interface quindi interfaccia utente il kit per l'interfaccia utente disponibile su designers italia offre uno strumento di immediato utilizzo che contiene delle componenti utili a costruire e a realizzare una interfaccia digitale quindi l'interfaccia del servizio digitale e la piattaforma bootstrap italia permette poi di convertire queste singole componenti in pezzi di codice già pronti quindi per lo sviluppo l'implementazione del servizio digitale stesso vedete qui degli esempi dei pezzetti dello UI kit che fornisce proprio indicazioni per esempio sull'uso del font delle sue grandezze fornisce l'indicazione delle griglie per esempio che nella pagina devono essere riempite con il testo fornisce componenti pronte come singoli menu o liste o strumenti come quello del calendario e bootstrap italia associa ad ognuno di questi elementi ad ognuna di queste componenti delle stringhe di codice pronte per essere utilizzate detto questo diciamo fatta questa rapida carrellata degli strumenti dei kit disponibili sulla piattaforma designers italia se ci sono delle domande possiamo abbiamo del tempo per poter rispondere allora Cristina per adesso stanno forse digitando qualche domanda se aspetti qualche minuto sappiamo dalle vostre iscrizioni che siete comuni di diverse dimensioni enti di comuni appunto che magari state anche in territori con esigenze e particolarità diverse quindi vi chiediamo di orientare anche i nostri esperti proprio con le domande che fate noi sappiamo appunto dall'indagine che abbiamo realizzato più o meno qual è il vostro livello di fabbisogni però appunto se avete delle domande particolari che sono appunto riferite direttamente alle esigenze del vostro ente è il momento di farle allora mentre voi scrivete le domande noi le raccogliamo possiamo anche fare la pausa che aveva previsto Maria Cristina e quindi ecco una è arrivata te la leggo Maria Cristina considerato che oltre il 50% dei comuni a meno di 5.000 abitanti si è pensato di fornire delle soluzioni più strutturate come ad esempio template specifici per i CMS per i CMS per i CMS più comuni si intanto tra poco parleremo nella seconda parte di questo webinar parleremo proprio del modello di siti web per i comuni il modello costituisce proprio un template di fatto completo già pronto all'uso per realizzare i siti web dei comuni di qualsiasi tipo di comune quindi diciamo di qualunque dimensione vedremo poi una serie di esempi anche di comuni molto piccoli quindi con meno di 5.000 abitanti come si diceva ma anche con molti di meno il modello dei comuni come vedremo tra poco è piuttosto flessibile nel senso che si può adattare alle esigenze di grandi comuni città metropolitane fino ai piccoli comuni che appunto come si diceva sono una maggioranza ed è utilizzabile indipendentemente dal tipo di soluzione tecnologica che si sceglie di utilizzare e inoltre open source e ci sono poi una serie di applicazioni già realizzate a riuso ma tutto questo lo vedremo tra poco allora ok se siete d'accordo facciamo la pausa Maria Cristina avevi pensato 10 minuti vero di pausa quindi ci ritroviamo qui alle 15.36 puntuali e inizieremo forse appunto con con le risposte o comunque con la diciamo la parte in cui la nostra esperta vi dirà come progettare le fasi del processo proposto da Designers Italia ok continuare se appunto continuare con la relazione oppure rispondere già alle prime domande che sono arrivate sì risponderei intanto brevemente alle domande perché sono diciamo molto pertinenti ma rispondo brevemente perché poi nella seconda parte in effetti si troveranno le risposte in maniera più più argomentata dunque una domanda chiedeva in termini di risorse umane quanti e quali professionalità sono necessarie allora questa è chiaramente una domanda che andrebbe declinata in relazione al tipo di progetto che di volta in volta deve essere affrontato e quindi nel caso specifico del sito web di un comune anche di che tipo di lavoro si tratta va detto che il modello di sito web dei comuni disponibile sulla piattaforma Designers Italia è stato proprio ideato realizzato con lo scopo di far fronte di rispondere proprio alla mancanza diciamo nota di risorse e competenze anche specifiche sulla progettazione digitale nelle pubbliche amministrazioni in particolare nelle pubbliche amministrazioni locali come i comuni quindi è stato proprio progettato come uno strumento pronto all'uso che quindi permette di realizzare un sito web anche non avendo a disposizione tutte le risorse e le professionalità che sarebbero invece necessarie quindi poi lo vedremo meglio ma insomma un comune può pensare di realizzare il proprio sito web in maniera anche autonoma appoggiandosi ad un fornitore solo per delle piccole specifiche attività la stessa cosa brevemente si può rispondere a un'altra domanda che chiedeva sull'analisi dei bisogni dei cittadini dicendo che appunto è molto importante ma è difficile trovare le risorse per svolgerla in ogni comune a questa domanda rispondo che sì sono disponibili dei dati sulle necessità dei cittadini almeno quelli che sono stati rilevati nell'analisi svolta per la costruzione del modello comuni che vedremo appunto tra un attimo e sono disponibili su Docs Italia partendo dalla piattaforma Designers Italia e cercando il modello comuni si accede a tutta la documentazione di progetto quindi di dettaglio che dettaglia anche proprio l'analisi sugli utenti qui vedo delle domande più articolate che forse vale ce n'è una più breve che dice buongiorno non esistono casi d'uso già sviluppati che tengano conto del numero di abitanti di comuni sì esistono molti casi d'uso che tra poco vedremo rapidamente e che declinano il modello sulle esigenze di diverse tipologie di comuni appunto di diverse dimensioni un'altra domanda è più articolata la leggo diverse riflessioni dice esiste il sito internet dell'ente o di più enti ma possono esistere più siti verticali tematici anagrafe servizi alla persona amministrazione trasparente pagamenti online che possono essere sviluppati da aziende esterne diverse tra di loro ed è molto improbabile che seguano un'interfaccia standardizzata le linee guida in questo senso sono molto utili ma ho questa domanda i fornitori esterni sono obbligati per legge a seguire le linee guida di design per tutto ciò che un'ente pubblica su web allora questa domanda è molto interessante e molto giusta sulla questione dei siti tematici risponderò tra un attimo quando parleremo del modello comuni perché il modello comuni ha anche tra i suoi obiettivi quello di limitare l'esigenza di realizzare tanti siti paralleli a quello principale del comune e lo vedremo tra un attimo per quanto riguarda i fornitori beh come è stato detto le linee guida per la progettazione e quindi i principi requisiti sono obbligatori cogenti quindi chiunque si approcci ad un alla progettazione di un servizio digitale web per una pubblica amministrazione deve attenersi a quei principi per cui progettare seguendo le direttive stabilite dalla normativa e dal piano triennale e dalle linee guida per cui sì diciamo che i fornitori necessariamente dovranno adeguarsi perché anche i bandi i capitolati di gara le richieste degli enti dovranno contenere necessariamente tra i requisiti appunto la realizzazione di strumenti che aderiscano alle direttive alle normative e alle linee guida detto questo io direi di vediamo ce n'è un'altra domanda rispondo a un'altra domanda e poi iniziamo a parlare del modello che vedo e insomma è bene che queste domande siano tutte molto pertinenti e molto specifiche questo insomma evidentemente dimostra un certo interesse per quanto riguarda il tema dell'accessibilità del portale ci sono strumenti che permettono di verificarla e anche certificarla sì esistono e per questo però vi rimando ai prossimi webinar che saranno dedicati più nello specifico a queste tematiche appunto tra queste quella dell'accessibilità e delle certificazioni legate all'accessibilità così come anche ai temi del riuso e della disponibilità delle applicazioni del modello su diversi CMS quindi per queste domande nello specifico vi rimando ai prossimi appuntamenti detto questo direi di riprendere perché appunto affronteremo proprio molte delle questioni che sono state sollevate parlando dei modelli se se finora e riprendo questa slide che avevamo visto prima parlando di Designers Italia abbiamo detto che Designers Italia offre una guida pratica alla progettazione di strumenti digitali una serie di kit che permettono di realizzare delle attività di ricerca progettazione di interfacce di contenuti e propone anche infine dei modelli veniamo quindi ai modelli ai template quindi dei pacchetti in sostanza già pronti di risorse pronti per essere usati per la costruzione di servizi web in particolare nel nostro caso di un sito web di un comune già pronti e progettati seguendo tutto quel processo di progettazione che abbiamo prima brevemente visto e quindi utilizzando tutte le metodiche che abbiamo nominato e quindi si tratta di strumenti progettati in modo da realizzare uno strumento aderente alle linee guida ai principi di usabilità accessibilità rispondente ai reali bisogni degli utenti attualmente su Designers Italia sono disponibili due modelli il modello di sito web per le scuole e il modello di sito web per i comuni naturalmente in questo caso ci focalizzeremo sul modello per i comuni che ha l'obiettivo ultimo diciamo di fornire ai comuni per l'appunto uno strumento già pronto che gli permetta di creare il proprio sito web senza dover reinventare la ruota utilizzando un po' questo che è diventato un mantra ovvero permettere di realizzare un prodotto senza dover approcciare un progetto digitale da zero partendo da zero ma anzi al contrario partendo da una libreria da un insieme di strumenti già pronti di componenti già pronte che sono state precedentemente pensate progettate e validate con gli utenti una struttura quindi già pronta per essere usata ma allo stesso tempo flessibile tanto da poter essere adattata alle esigenze di ogni singola realtà di ogni singolo comune che sappiamo essere molto diverse l'una dall'altra non solo perché i comuni hanno dimensioni diverse ma perché hanno anche collocazioni posizioni geografiche molto diverse esigenze territoriali molto diverse e quindi la struttura nasce proprio per essere flessibile ad adattarsi alle particolarità di ogni realtà locale tutto questo appunto per come dicevo non reinventare la ruota ovvero per ridurre lo sforzo in termini da una parte economici ma anche di lavoro e quindi di tempo per arrivare a dire questo faccio un piccolissimo veloce passo indietro dicendo che il quadro generale è che in Italia esistono oltre 22.000 pubbliche amministrazioni ciascuna di queste quindi che costituisce una sorta di arcipelago sono distribuite e sono atomizzate in tutto il territorio nazionale e hanno ciascuna le sue peculiarità e le sue caratteristiche ciascuna di queste si è mossa fino ai tempi molto recenti in maniera autonoma per quanto riguarda la realizzazione e l'offerta di servizi digitali ai cittadini questo chiaramente diciamo è risultato nel fatto che tutti questi servizi digitali queste piattaforme digitali della pubblica amministrazione sono molto diverse tra di loro molto disomogenee e disomogenea e frammentata è anche la qualità dei servizi digitali che vengono offerti chiaramente quindi non solo non c'è uno standard qualitativo in termini di usabilità di accessibilità di rispondenza ai reali bisogni del cittadino ma non c'è dall'altra parte neanche una riconoscibilità diciamo così istituzionale di molte delle piattaforme degli strumenti digitali della pubblica amministrazione proprio per questo si è pensato di fornire alle pubbliche amministrazioni degli strumenti appunto già pronti che garantissero uno standard qualitativo in termini di progettazione di rispondenza alle linee guida ai principi di centralità dell'utente usabilità accessibilità e che fornissero anche degli strumenti che dal punto di vista dell'interfaccia utente fossero anche riconoscibili come istituzionali quindi come rappresentativi della pubblica amministrazione e si è scelto di fare questo partendo dai comuni perché dai comuni? innanzitutto perché i comuni italiani gli oltre 8000 comuni italiani sono il primo livello della pubblica amministrazione il primo livello di contatto della pubblica amministrazione e quindi dello Stato con il cittadino sono quindi delle strutture presenti diciamo in modo capillare sul territorio e che sono molto vicine alle persone alle reali esigenze delle persone sono delle amministrazioni che soffrono storicamente di carenza di risorse umane e finanziarie ma che dall'altra parte hanno però in carico una serie molto ampia di servizi che erogano al cittadino all'utente finale e quindi da servizi come la raccolta differenziata della spazzatura l'iscrizione dei bambini all'asilo nido la viabilità e così tante altre informazioni di questo tipo devono essere veicolate tutte attraverso il sito web e i servizi dall'altra parte possono e devono essere offerti anche attraverso il sito web oltre che attraverso gli sportelli fisici del comune i comuni va detto anche sono stati anche tra le prime realtà tra le prime pubbliche amministrazioni che hanno risposto agli strumenti messi a disposizione sulla piattaforma Designers Italia che quindi hanno iniziato ad utilizzarli è proprio un comune il comune di Firenze nel caso specifico è stato il punto di partenza di questo progetto per il modello comuni infatti diciamo è stato uno dei primi che ha riprogettato il proprio sito web in modo da aderire alla metodologia di progettazione centrata sull'utente e quindi ai principi di accessibilità e usabilità il progetto che dicevo che adesso brevemente vi racconterò è stato strutturato in quattro fasi la prima fase che corrispondono un po' a quelli quattro capitoli che abbiamo visto essere diciamo costituenti della guida pratica e quindi della metodologia di progettazione dei servizi digitali la prima fase è stata infatti quella della ricerca con gli utenti quindi della raccolta dei bisogni degli utenti da definire come requisiti per il progetto sulla base di questi requisiti è stata poi stabilita e costruita un'architettura dei contenuti del sito web quindi attraverso un processo di progettazione dei contenuti come dicevamo all'inizio è stato poi realizzato un prototipo dell'interfaccia utente quindi dell'interfaccia vera e propria del modello vero e proprio di interfaccia di sito web il sito è stato poi il modello è stato poi diffuso ed è tuttora in uso e in evoluzione perché è nato proprio per essere aperto ovvero in evoluzione continua chiunque attraverso le varie piattaforme e la community di Designers Italia può contribuire al miglioramento e alla evoluzione del modello cosa che poi vedremo più avanti e che vedrete meglio anche nei prossimi webinar la prima fase dicevo è stata quella di ricerca per l'appunto con gli utenti sono state svolte delle interviste e dei test di usabilità utilizzando proprio i kit che abbiamo prima velocemente visto sono stati intervistati degli stakeholders ovvero dei soggetti coinvolti nel processo di progettazione del sito web di diversi comuni che stavano allora riprogettando il sito in modo conforme alle linee guida e sono stati svolti test di usabilità su quanto era stato progettato è stata poi svolta un'analisi dell'esistente sono stati cioè comparati analizzati una serie di siti web di comuni che avevano riprogettato il loro sito seguendo le linee guida di cui qui vedete una lista appunto di comuni che hanno aderito da subito a questo progetto quindi primo tra tutti nominavo Firenze ma poi anche Cagliari Venezia Biella e altri è stato poi comparato diciamo comparata questa analisi con un vero e proprio benchmark ovvero con una analisi comparativa di altri siti web sia di comuni italiani che di città di municipalità a livello internazionale questo per definire individuare le cosiddette best practice o buone pratiche quindi casi eccellenti da prendere come ispirazione ma anche per evidenziare potenziali criticità dei siti realizzati la ricerca qualitativa è proseguita appunto con una serie di interviste a cittadini focalizzate proprio per raccogliere i loro bisogni nei confronti del sito web di un comune e sono state anche svolte osservazioni dirette ovvero osservazioni di interazioni di cittadini agli sportelli URP dei vari comuni in particolare di 5 comuni pilota queste attività in particolare sono state svolte nell'ambito del progetto My Portal svolto da Regione Veneto che ha contribuito alla realizzazione del modello di siti web per i comuni e di cui prima abbiamo visto un un estratto dei risultati in particolare avevamo visto questa questa slide che schematizza gli obiettivi principali che i cittadini hanno nei confronti del sito web di un comune cioè i motivi principali per i quali i cittadini si collegano al sito web di un comune che sono stati appunto chiaramente riassunti sulla base di tutte le attività che precedentemente vi dicevo che sono quindi state svolte in termini di analisi comprese appunto le comparazioni qual è stato il risultato in termini di strutturazione dei contenuti di questa fase di analisi qui vedete un esempio questo è un template preso proprio dal modello comuni presente online come vedete è uno schema generico di un comune generico che organizza i contenuti in particolare in quattro sezioni principali le vedete e diciamo il motivo per cui tutti i contenuti che sono molti del sito web di un comune sono stati organizzati in queste quattro sezioni principali è stato quello di cercare di organizzarli in un modo che fosse rispondente al modo di pensare al modello mentale dei cittadini e non tanto in un modo che rispecchiasse è la struttura dell'ente cosa che invece tradizionalmente ricorre ricorreva in molti siti web di pubbliche amministrazioni si è cercato quindi appunto di ribaltare la prospettiva di adottare la prospettiva del cittadino e quindi di organizzare i contenuti in un modo che fosse realmente utile e intellegibile per lui quindi le sezioni principali sono quella dell'amministrazione che contiene appunto tutte le informazioni di approfondimento sull'ente sull'organizzazione dell'ente e sui vari uffici una sezione novità che contiene dei contenuti estemporanei diciamo quindi che hanno una validità limitata nel tempo quindi gli avvisi le notizie le novità gli aggiornamenti una sezione dedicata ai servizi che sono chiaramente un capitolo importantissimo fondamentale per un comune visto che sono molto numerosi i servizi che un comune offre e in particolare i servizi sono organizzati diciamo per ambito e a ciascun singolo servizio corrisponde una scheda del servizio che vedremo tra un attimo che contiene una serie di informazioni ricorrenti e standardizzate infine la sezione documenti e dati contiene appunto tutta la documentazione gli atti pubblici gli atti ufficiali di un comune ma anche documenti come la modulistica dall'altra parte vedete sulla destra della schermata il menu contiene una serie di argomenti questo l'utilizzo degli argomenti ovvero di diciamo così tag tematici ha permesso di strutturare l'architettura quindi la struttura dei contenuti del sito web di un comune in un modo che qui vedete schematizzato con uno schema ad albero con un diagramma in un modo che sia flessibile in modo tale che tutti i contenuti presenti all'interno del sito possono essere classificati in modo tematico per parole chiave appunto per argomenti in modo tale che contenuti provenienti da sezioni differenti del sito possano essere accomunate proprio perché effluite quindi in modo congiunto proprio perché facenti riferimento ad un medesimo argomento i tag cioè la navigazione per tag per parole chiave per argomenti permette cioè una navigazione trasversale dei contenuti all'interno di questa alberatura vediamo in questa schermata un esempio di tag vedete che qui per esempio siamo all'interno di una pagina del sito del comune di Cagliari all'interno della sezione amministrazione c'è una sezione dedicata ai luoghi del comune dell'amministrazione in particolare siamo nella pagina dedicata ai centri per la cultura vediamo che in questa sezione sono segnalati è segnalata la rilevanza di due argomenti cultura e turismo questo significa che questi contenuti ricorreranno appunto e sono rilevanti per queste tipologie di argomenti che sono indicate qui e che vedete per esempio nel caso specifico del comune di Cagliari sono stati messi in evidenza tre argomenti in particolare su tutti gli argomenti che poi vengono chiaramente trattati nel sito questo chiaramente ogni comune può decidere di mettere in evidenza gli argomenti che sono più rilevanti nel caso specifico parlavo prima di una standardizzazione dei processi di fruizione dei contenuti che cosa è stato fatto nella organizzazione in quella organizzazione ad albero dei contenuti che abbiamo visto poco fa è stato anche individuato un percorso di fruizione ricorrente diciamo così più o meno standard che riguarda la fruizione di contenuti legati ai servizi di un comune che sono chiaramente il cuore del sito web di un comune in particolare è stato visto che il percorso per arrivare alla pagina dedicata ad un particolare servizio poteva passare o da una navigazione del menu principale quindi attraverso la sezione servizi in particolare passando dalla macro categoria per arrivare al singolo servizio oppure attraverso un'attività di ricerca libera e quindi selezione del risultato la pagina del servizio dicevo è un contenuto piuttosto centrale all'interno del sito web di un comune per questo è stata formalizzata in uno schema che contiene una serie di informazioni che devono essere sempre le stesse per tipologia per ogni servizio che viene presentato cioè la scheda di un servizio comunale dovrà contenere sempre le stesse tipologie di informazioni perché viene offerto questo servizio a cosa serve a chi si rivolge quali sono i requisiti per poterlo ottenere e in che modo si può fare richiesta per ottenerlo quali sono i tempi per ottenere il servizio stesso e eventuali indicazioni di supporto e di aiuto a chi ne volesse fare richiesta qui vedete un esempio di scheda del servizio in particolare parliamo dell'iscrizione agli asili nido e vedete che sulla sinistra vediamo la lista delle tipologie di informazioni che questa scheda contiene che vengono poi esplicitate nella sezione destra della pagina quindi selezionando sulla sinistra il tipo di informazione che si vuole conoscere lo si vedrà a comparire sulla destra e questa scheda così come viene presentata sarà identica per ciascuna tipologia di servizio questo in modo tale da garantire uno standard di informazione e anche uno standard di fruizione delle informazioni in modo tale che il cittadino si troverà sempre di fronte alle stesse informazioni presentate nello stesso modo e saprà quindi dove andarle a cercare immediatamente vedete anche che in questa scheda c'è di nuovo l'utilizzo dei tag per evidenziare per quali argomenti è rilevante questo tipo di servizio quindi in quale altre sezioni potrò eventualmente trovare informazioni collegate a questa dicevamo prima che il flusso di fruizione delle informazioni relative ad un servizio segue uno schema ricorrente che riguarda in questo caso diciamo il sito web quindi l'area pubblica del sito web di un comune ma una volta che il cittadino decide poi di fare richiesta per fruire di quel servizio il cittadino potrà accedere ad un'area personale un'area riservata quindi non più pubblica del sito web per poter poi svolgere eventualmente una procedura digitalizzata per inviare la propria richiesta di fruizione del servizio in questo caso chiaramente l'accesso all'area riservata sarà veicolato attraverso speed o comunque attraverso piattaforme abilitanti e anche il resto delle attività utilizzerà l'accesso a piattaforme abilitanti come appunto pago PA per esempio per il pagamento di eventuali tasse o rette qui vediamo un esempio di nuovo il comune di Cagliari che è stato il comune pilota del progetto sul modello dei siti web per i comuni vedete la schermata di accesso all'area riservata per i servizi al cittadino alla quale si può accedere attraverso speed una volta fatto accesso alla propria area riservata ci si troverà appunto in una schermata che qui vediamo in un template generico di esempio che mi darà accesso alle informazioni su tutte le procedure che io ho avviato nei confronti del mio comune quindi richieste pagamenti documenti vari e notifiche su eventuali stati di avanzamento di queste stesse procedure questo è di nuovo un template generico che quindi è adattabile a qualunque comune in sostanza che cosa c'è che cosa è disponibile del modello comuni innanzitutto è disponibile come accennavo prima tutta la documentazione tecnica di progetto quindi tutti i documenti relativi ai report relativi alle attività di ricerca che sono state svolte per creare il modello qualunque appunto documentazione rilevante e di approfondimento sul sui dati raccolti sulle esigenze sugli obiettivi è presente un'architettura dell'informazione completa in sintesi come abbiamo visto quell'alberatura quello schema quel diagramma di flusso che abbiamo visto poco fa ma è presente nel dettaglio con la specificazione dei vocabolari controllati che sono utilizzati nell'architettura dell'informazione dei comuni italiani significa che stiamo utilizzando delle tassonomie diciamo riconosciute a livello italiano e a livello europeo e quindi riconosciute e riconoscibili e sono disponibili tutti i template delle pagine del sito web quindi è disponibile una lista di template di pagine qui ne vedete vedete un estratto della schermata a partire sempre dalla piattaforma designers.italia.it da cui ci si collega anche ad un piccolo diciamo sito proprio dedicato al modello dei comuni vedete c'è una lista proprio di pagine già pronte ne abbiamo visti qualche esempio poco fa dicevo che il modello comune questi template sono quindi pronti all'uso possono essere utilizzati indipendentemente dalle scelte tecnologiche che ciascun comune poi farà integrano queste strutture questi template l'uso di piattaforme abilitanti come dicevamo prima in particolare con riferimento all'area personale dedicata al cittadino e sono oltretutto appunto delle risorse aperte perché appunto permettono un contributo continuo da parte di chi le utilizza e intende migliorare il modello stesso ora qui ecco vediamo questo è un prototipo non è il vero sito del comune di Cagliari è un prototipo ad alta fedeltà che appunto è stato realizzato insieme al modello che permette di navigare un sito web come se fosse quello vero solo che vedete appunto non contiene contenuti reali o aggiornati ad oggi ma permette di visualizzare quale sarà la reale esperienza di fruizione e di esplorazione del cittadino dell'utente finale tutto questo materiale come dicevo è disponibile è condiviso attraverso le piattaforme di designers italia e di developers italia e è come dicevo in espansione in miglioramento continuo perché chiunque può contribuire inoltre è in evoluzione perché si pensa è diciamo in programma la possibilità di realizzare modelli poi declinati su altre tipologie di pubbliche amministrazioni o magari delle vere e proprie declinazioni del modello come poi qualcuno accennava anche poco fa a diverse tipologie o categorie di comuni inoltre queste piattaforme questi template sono a riuso sono presenti sulla piattaforma del riuso di cui poi sarà sarà discusso più approfonditamente nei prossimi incontri quindi esistono già delle implementazioni già pronte per esempio per l'area riservata per i servizi al cittadino oltre che per i siti web stessi il il modello di sito web è come dicevo progettato per rispondere ai reali bisogni dei cittadini ma è anche uno strumento che risponde alle esigenze degli addetti ai lavori di chi dovrà poi diciamo mantenere aggiornare alimentare i contenuti del sito web infatti diciamo la struttura stessa del sito che è piuttosto semplice schematizzata permette un aggiornamento molto molto semplificato permette dei controlli automatici sui dati ha un'interfaccia semplice quindi di semplice utilizzo e come dicevo prima il modello utilizzando anche dei vocabolari controllati permette delle classificazioni predefinite quindi più immediate vediamo ora rapidamente una carrellata di applicazioni del modello partendo dalla città di Firenze che come vi dicevo è stato un po' il motore lo spunto per la partenza all'avvio dei lavori sulla realizzazione del modello la città di Firenze come vedete non utilizza la versione attuale del modello perché appunto questo sito è stato realizzato in aderenza alle linee guida ma prima e durante la costruzione del modello stesso quindi vedete che per esempio banalmente la struttura del menu principale è leggermente diversa da quella che abbiamo visto essere la proposta del modello cioè non contiene tutte e quattro le sezioni principali del modello comuni vediamo poi il comune di Cagliari questa è la schermata del vero sito del comune di Cagliari quindi con i veri contenuti che è stato come dicevo un pilota di questo di questo progetto insieme poi ad altre una serie di altri comuni il comune di Cagliari adotta pienamente il modello è un esempio quindi classico di adozione integrale del modello quindi con l'utilizzo delle quattro sezioni e degli l'utilizzo delle sezioni dedicate agli argomenti l'utilizzo dei tag quindi della navigazione trasversale per argomenti e prevede anche un accesso all'area riservata vedete che ogni comune personalizza poi l'interfaccia utente del proprio sito con i colori istituzionali della propria amministrazione chiaramente come dicevo all'inizio il modello è personalizzabile non solo nella struttura ma anche nell'aspetto finale dell'interfaccia utente questo è l'esempio di un altro comune Sardo il comune di Seui che è un comune chiaramente di dimensioni molto diverse da quelle del comune di Cagliari quindi è un comune molto più piccolo che adotta però come vedete in questo caso il modello con le sue quattro sezioni principali e l'utilizzo degli argomenti personalizzando di nuovo l'utilizzo dei colori istituzionali e qui vediamo invece un esempio di uno dei tanti comuni trentini che hanno adottato il modello comuni il consorzio dei comuni trentini è stato diciamo tra i primi soggetti ad aderire all'utilizzo e al progetto del modello di sito web per i comuni e vedete che anche in questo caso c'è una declinazione un adattamento alle esigenze del comune vedete che la scelta degli argomenti da porre in evidenza chiaramente varia a seconda della realtà specifica così come varia diciamo per esempio la scelta di mettere in evidenza o di diciamo così di distinguere differenziare la sezione dedicata all'amministrazione trasparente che è una sezione particolare del sito e anche diciamo del modello il comune il comune di Rimini è un esempio recentissimo è un sito che è stato pubblicato pochissimi giorni fa forse un paio di settimane e che è un esempio di utilizzo diciamo molto fedele del modello comuni che è stato realizzato interamente con risorse interne al comune stesso quindi anche per rispondere alle domande che venivano fatte prima il comune di Rimini ha messo in piedi questo sito utilizzando la propria redazione web qui nella quale quindi era presente un responsabile dello sviluppo uno uno sviluppatore un responsabile del progetto e un responsabile che si è occupato della diciamo del trasferimento e riorganizzazione dei contenuti che però sono stati poi definiti dalle singole redazioni delle singole sezioni uffici dell'amministrazione quindi con un lavoro corale è stato possibile riorganizzare i contenuti e trasferirli dalla vecchia struttura del vecchio sito a questa nuova struttura il comune di Rimini per esempio si è appoggiato ad un fornitore esterno solo per la modellizzazione del CMS per il resto ha realizzato tutta l'attività di progettazione internamente questo è un esempio invece che risponde alle esigenze dei piccolissimi comuni questo è un piccolissimo comune che fa parte del consorzio dei comuni di Montiferri Alto Campidano che associa una serie di comuni chiaramente sardi che hanno una popolazione inferiore ai 2500 abitanti quindi si tratta di comuni molto piccoli come vedete questa applicazione del modello non riporta in maniera letterare la struttura proposta dal modello vedete che qui per esempio ci sono in evidenza tre sezioni che sono differenti dalle sezioni principali dell'architettura del modello comuni mentre tutti gli altri contenuti sono annidati in un menù cosiddetto hamburger menù che quindi li annida poi in sottosezioni naturalmente questo comune essendo molto piccolo ha delle esigenze limitate sia in termini informativi o quantomeno particolari diversi da quelle che può avere il comune di Cagliari o altri comuni di altre dimensioni questo è un altro esempio ancora di comune molto piccolo di una serie di comuni della regione Lombardia che hanno adottato il modello in questa versione diciamo così ancora diversa che fa anche in questo caso uso dell'hamburger menù quindi annida i contenuti delle sezioni diciamo così nascoste o comunque fruibili attraverso esplorazione del menù ed espone quattro sezioni principali utilizza in questo caso le aree tematiche ripropone la sezione dedicata all'amministrazione e la sezione dedicata ai servizi e istituisce questa sezione dedicata alle attività che si svolgono all'interno del comune stesso abbiamo visto quindi che diciamo il modello ha una determinata flessibilità per potersi adattare alle diverse esigenze di diverse tipologie di comuni può essere adattato anche in termini di interfaccia utente quindi uso dei colori istituzionali ma anche di diciamo della messa in evidenza e torno qui per esempio di alcune sezioni tematiche in particolare e chiaramente però nel caso specifico dei piccolissimi comuni abbiamo visto queste due applicazioni che non sono fedelissime del modello sono il risultato di casi d'uso veri e propri quindi di casi di applicazione che certamente meriterebbero di essere rivisti in maniera anche comparativa per definire una sorta di versione o modello o sottomodello per i piccolissimi comuni lavoro che eventualmente potrà essere svolto nel futuro ma anche che potrà essere il frutto delle attività dei contributi della community dicevo giusto per rispondere a un'altra domanda poi ci fermiamo se ci sono altre domande per rispondere ad una delle domande che sono state fatte prima riguardo i siti tematici uno degli obiettivi del modello comuni era è proprio quello di organizzare i contenuti anche attraverso la taggatura il sistema della taggatura per parole chiave proprio per ridurre l'esigenza dei comuni di moltiplicare i siti tematici per ogni iniziativa o tema particolare i siti tematici hanno il problema di oltre che di essere delle piattaforme esterne al sito web del comune e quindi realizzate in modo indipendente con un'interfaccia utente spesso disomogenea come veniva fatto notare prima ma portano fuori intanto il cittadino fuori dal sito web del comune quindi in sostanza gli fanno cambiare piattaforma e sistema di fruizione inoltre sono anche molto dispendiosi sia nella realizzazione che nella manutenzione perché mantenere contenuti in parallelo aggiornati di più siti che magari si occupano di temi differenti ma collegati tra di loro è chiaramente un'attività molto dispendiosa che richiede necessariamente il supporto di forniture esterne o comunque un grande lavoro da parte delle redazioni comunali l'utilizzo invece degli argomenti delle sezioni dedicate agli argomenti potrebbe limitare può limitare questa necessità quindi questa proliferazione e ridurre ancora di più la necessità di lavoro e spese facilitando anche la manutenzione e l'aggiornamento dei contenuti detto questo io mi fermerei se c'è altre domande allora ti abbiamo proposto Maria Cristina delle domande a cui forse tu hai già in parte risposto durante la comunicazione non so se le vuoi scorrere nel box delle domande per i per i relatori si senti io non sento e Maria Cristina non mi senti sto vedendo mi senti Maria Cristina ok ok allora ti stavo dicendo che ti abbiamo proposto delle domande che stavano in chat nel box delle domande che vedono i relatori probabilmente ad alcune hai già risposto nel corso della tua comunicazione non so se per sicurezza le vuoi rileggere e verificare o se puoi dare qualche risposta un po' più articolata vediamo sì allora c'è ancora qui una domanda che avevo già affrontato prima sulle risorse per svolgere attività di ricerca con gli utenti come dicevo prima l'utilizzo del modello di fatto permette di utilizzare uno strumento che è già stato validato attraverso un'attività di ricerca con gli utenti e in generale però tornando al tema delle risorse delle professionalità necessarie possiamo dire che utilizzando il modello un comune può avvalersi se esiste di una diciamo così redazione web di un responsabile del progetto e di un responsabile dello sviluppo e magari avvalersi di competenze esterne per quanto riguarda per esempio la ottimizzazione della struttura dei contenuti se appunto mancassero risorse interne in questo senso quindi nelle redazioni o eventualmente per lo svolgimento dei test di usabilità sulla piattaforma sviluppata vediamo c'è un'altra domanda sullo UI kit alcuni UI kit sarebbero utilizzabili anche da chi ha già un sito fornito da un fornitore per integrare servizi diversi da quelli proposti dal fornitore e in maniera più autonoma non so se ho capito perfettamente la domanda allora lo UI kit è certamente utilizzabile per realizzare l'interfaccia utente di un sito quindi prevede che il lavoro sull'organizzazione dei contenuti e sull'architettura sia stato già fatto e diciamo può essere deve essere utilizzato nel caso ci sia un fornitore che realizza il sito quindi un fornitore un soggetto esterno il soggetto esterno potrà certamente utilizzare lo UI kit o le varie componenti o utilizzare già direttamente i template pronti del modello o già diciamo soluzioni già ottimizzate o già personalizzate del modello che sono state messe a riuso utilizzando poi diverse soluzioni tecnologiche vediamo anche per i siti tematici si parla di responsive design ma per questi bisognerebbe parlare innanzitutto di mobile first ci sono delle piattaforme per realizzare delle app con framework standard per i comuni ok parliamo di app vedo c'è anche un'altra domanda sulle app collegate ai siti web dei comuni allora non esiste un kit per la realizzazione attualmente di una app dedicata al comune ma il modello comuni è stato realizzato in un'ottica mobile first in questa presentazione abbiamo visto degli esempi di template in versione desktop per una questione di maggiore visibilità e chiarezza e per mostrare meglio i contenuti ma i template il prototipo quindi tutta l'interfaccia utente è stata progettata prima partendo da una produzione da mobile quindi certamente il sito web di un comune realizzato attraverso l'utilizzo del modello è fruibile da mobile quindi risponde al requisito stabilito tra le linee guida relativo al mobile first per quanto riguarda le app esistono delle app sviluppate da da diversi fornitori diciamo di supporto all'attività dei siti web in particolare relative a dei servizi ma non sono attualmente presenti in un kit strutturati in un kit o in un modello si può trovare una lista dei comuni che hanno già aderito al modello questa è una bellissima domanda noi stiamo cercando di mappare i comuni che aderiscono e che hanno utilizzato il modello per il loro sito web chiaramente questa attività non è non è semplice perché non avviene in maniera automatica non c'è un modo diciamo automatizzato per seguire queste adesioni e non c'è ancora neanche un modo per come dire valutare la reale adesione al modello e quindi alle linee guida attraverso dei dei kpi stabiliti quindi dei parametri di valutazione predeterminati però stiamo lavorando ad una mappatura possiamo dire che certamente sono molti i comuni e sempre di più di recente che per esempio contattano i vari canali di designers italia perché desiderano aderire oppure lo hanno appena fatto e vogliono condividere la loro la loro esperienza vediamo ancora delle altre domande sarebbe aspicabile creare uno sportello polifunzionale come unico punto di accesso per il cittadino per fruire di tutti i servizi online che l'ente rende disponibili per esempio prenotazione degli appuntamenti emissione dei certificati trasporto scolastico eccetera esiste un modello standard per creare quest'area allora nel modello come abbiamo accennato è presente i template sono presenti i template di un'area riservata che ha appunto come obiettivo quello di accentrare dal lato del cittadino centralizzare dal lato del cittadino tutti i servizi che il cittadino può richiedere ad un comune quindi di vedere tutti insieme lo stato delle proprie pratiche delle proprie richieste quindi questo tipo di approccio è presente nel modello dopodiché ne esistono diverse applicazioni dei vari fornitori quindi diverse casistiche sul territorio nazionale chiaramente la possibilità poi di far confluire per il cittadino diciamo tutte le informazioni le notifiche gli aggiornamenti sui vari servizi dipende anche da un'infrastruttura tecnica e dalla possibilità che i vari sistemi poi gestionali interni lato operatore dei comuni si possano parlare e possano alimentare chiaramente quest'area aggiornando le informazioni e i dati vediamo ancora la descrizione del flusso di navigazione e la necessità di una sua standardizzazione è certamente basilare per rendere più fruibile un sito secondo voi l'utilizzo di strumenti più interattivi che i cittadini hanno già avuto modo di sperimentare sui portali di aziende come ad esempio i chatbot è qualcosa già previsto dai kit di Agid oppure è in fase di definizione ideazione dunque la necessità di si parla di flusso di navigazione e standardizzazione certo gli strumenti di supporto diciamo di aiuto alla navigazione per il momento non sono inclusi nel modello se questa era se colgo esattamente diciamo il senso il senso della domanda non sono attualmente previsti e inclusi nel modello certamente saranno da prevedere laddove esisteranno e verranno supportati dei flussi diciamo più complessi per l'accesso dei servizi digitali quindi man mano poi anche che i comuni procederanno e cosa che avverrà prevedibilmente in modo anche piuttosto rapido nei prossimi mesi e anni alla digitalizzazione dei servizi che offrono chiaramente quindi definendosi un maggiore livello di complessità anche dei flussi dei processi potrebbe rendersi necessaria la realizzazione di strumenti di supporto di aiuto come anche dei chatbot per i cittadini ma per ora non sono inclusi o previsti dal modello vediamo ancora allora qui c'è di nuovo una domanda su cms quindi drupal wordpress e diciamo si chiede se i template html messi a disposizione da designers italia devono essere in modo declinati in modo opportuno per essere utilizzati nei cms allora su questo io di nuovo raccomando di partecipare ai prossimi webinar nei quali si affronteranno proprio nello specifico questo tipo di tematiche si vedranno diversi tipi di applicazione del modello con diversi cms nei casi che abbiamo visto si ne sono stati utilizzati diversi quindi c'è questa possibilità ma appunto invito alla partecipazione ai prossimi webinar qui non vedo altre domande vediamo vediamo ah questa è prevista una revisione o una ridiscussione dei vocabolari controllati dunque è prevista non so bene in che senso si intenda è prevista diciamo chiaramente la struttura dell'architettura dell'informazione prevista dal modello utilizza dei vocabolari controllati come dicevo condivisi e quindi a livello nazionale ed europeo chiaramente come dicevo il modello non è obbligatorio diciamo così quindi è un suggerimento è una struttura che appunto basandosi su questi tipi di vocabolari diciamo è ottimizzata per distribuire veicolare tutti i contenuti possibili all'interno del sito web di un comune chiaramente sono possibili di caso in caso delle revisioni purché ne stiamo per esempio proprio in queste settimane vedendo alcuni di alcuni comuni che hanno di recente utilizzato e applicato il modello che hanno apportato delle modifiche delle revisioni a questi vocabolari chiaramente insomma saranno da valutare poi caso per caso nella loro opportunità essendo appunto vocabolari condivisi e standardizzati penso che abbiamo risposto a tutto Maria Cristina credo chiudiamo con un po' di ritardo però ci terrei a dare la parola a Stelio Pagnotta al posto di Rosa Barrese di Agito che era previsto per i pochi minuti di chiusura Stelio sì buon pomeriggio sarò veramente molto breve visto che abbiamo già sforato volevo fare solo una considerazione di carattere generale in realtà quando la collega con i colleghi del dipartimento ci hanno proposto di avviare un'attività di formazione su questo tema almeno io personalmente sono stato molto contento perché poi il tema del design dei servizi o dei siti web spesso viene relegato o almeno in passato era molto di più così a tema di nicchia però abbiamo visto come hanno detto i colleghi sia da un punto di vista normativo e strategico sia da un punto di vista poi degli strumenti concreti che vengono messi a disposizione si sta facendo un gran lavoro per mettere a disposizione delle amministrazioni sia gli strumenti che indicazioni appunto di carattere normativo e penso sia importante come dicevo a livello molto generale sottolineare che poi il design dei servizi il design dei siti web non è un tema di solo un tema di bellezza estetica non è il blu perché mi piace di più rispetto al giallo o rispetto al rosso ma si tratta di tutta una serie di indicazioni che vanno sostanzialmente nella direzione di migliorare il rapporto con il cittadino avere un sito web che sia accessibile che sia usabile che sia di facile consultazione piuttosto che un'app o un qualunque servizio che sia progettato secondo determinati standard ha come poi obiettivo principale al di là dell'aspetto estetico quello di migliorare il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione e secondo me quando parliamo di design sia di siti web che di servizi è sempre importante sottolinearlo proprio per ricordare che non si tratta di un tema di nicchia e di puro gusto estetico ma è un tema fondamentale nell'ottica del migliorare il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione nel far sì che poi anche i servizi digitali delle pubbliche amministrazioni vengano sempre di più usati visto il ritardo io mi limiterei a questo e quindi poi lascerei a Patrizia dare i riferimenti dei prossimi appuntamenti grazie mille Stelio allora io vorrei ringraziare tutti quanti per la partecipazione ho visto che siete rimasti collegati anche se abbiamo sforato le vostre domande erano molto interessanti e molto nel merito e si è capito appunto che non siete attenti soltanto all'estetica dei siti web allora penso che molte delle vostre domande troveranno degli approfondimenti nei prossimi webinar in particolare io vi do appuntamento al 25 giugno sempre alla stessa ora parleremo dell'architettura informatica dei contenuti dell'interfaccia utente del sito web di un comune ringrazio ancora i nostri esperti che sono stati appunto molto esaustivi rispetto ai temi che si erano proposti anche alle domande che avete fatto grazie mille a Claudio Celegin a Maria Cristina Caratozzolo ringrazio anche ringrazio anche Michela Gabrielli che si lente in quanto appunto coordinatrice di tutta la parte tecnico-scientifica ha seguito il webinar e che ci assisterà anche per le prossime progettazioni grazie mille e arrivederci a tutti e grazie mille Grazie.